Il protestantesimo in Italia ha avuto una presa apparentemente minore se si guarda negli esiti quantitativi. La ragione per cui questo è accaduto naturalmente non dipende da quella che è stata l'impegno alla predicazione protestante, ma al fatto che l'Italia aveva una configurazione di tipo confessionale religioso diverso, da un lato dal centro Italia verso il nord la presa dell'inquisizione ha avuto successo rispetto alla predicazione protestante, dall'altro in quello che è stato il meridione, la penetrazione delle idee riformatrici è stata molto più lenta e in fondo rallentata e bisogna anche tenere conto del fatto che perfino la riforma cattolica, quella del ridentino, in fondo non è mai scesa verso il sud. Il fatto che questa consistenza numerica abbia per questo avuto un significato modesto nella storia del paese invece sarebbe sbagliato dirlo, è stata una presenza piccola ma molto significativa. Per quanto minoritaria la presenza protestante nell'Italia è stato un fattore estremamente significativo ed importante proprio perché nel costituirsi dell'unità nazionale ha rappresentato una minoranza organizzata, costituita, riconosciuta che ha significato per la maggioranza cattolica, per il papato poi più in generale per lo Stato stesso, una grande sfida con la quale misurarsi. Una sfida che ha saputo far valere la propria esistenza anche in termini di prestigio. Il modo in cui il protestantesimo viene percepito in Italia, in modo di vedere, non è in fondo molto dissimile dal modo in cui viene percepita la confessione maggioritaria, cioè quella romano-cattolica. Paradossalmente sembra oggi che le differenze di confessioni di fede fra l'una e l'altra chiesa siano molto meno rilevanti di quella che è la posizione delle diverse chiese sulla scena politica e sulla scena della rappresentazione dei diritti. È più sulla differenza che le chiese hanno in materia di laicità praticata, di produzione delle legislative e di altro che la differenza si vede, viene percepita all'esterno piuttosto che non sugli aspetti di confessione o sugli aspetti del culto e della pratica del culto che invece sono quelli sui quali costitutivamente la riforma è nata e ha preteso di vivere anche in contesti sfavorevoli come erano quelli dell'Italia cattolica. Il paesaggio religioso dell'Italia si è molto modificato. Se uno guarda all'inizio del novecento in fondo esistevano 2,5 componenti religiosi importanti nel mondo cristiano, quella maggioritaria cattolica, quella minoritaria protestante più una quota che a quell'epoca era crescente di ex cattolici che erano passati ad un regime di vita agnostico. Oggi il paesaggio religioso è infinitamente più complicato. La presenza delle chiese ortodosse grazie all'immigrazione che prima era molto puntiforme sul territorio nazionale, oggi è diventata infinitamente più diffusa, ci sono parrocchie ovunque. La presenza della comunità ebraica che si era cercato di estirpare sotto il fascismo con le leggi razziali, si è ripresentata con una sua vocalità e una sua forza di presenza. La comunità islamica che prima non esisteva quasi per nulla in Italia, oggi è diventata una componente importante. Ma più che tutto mi sembra quello che oggi rappresenta una sfida per la presenza del protestantesimo italiano è una grande tendenza verso una dimensione non confessionale ma spirituale, quella del pentecostalismo, che riguarda sia la chiesa cattolica sia la chiesa protestante e che tende a far valere rispetto alla presenza delle chiese stabilite, così come vengono dette, una forma di pratica religiosa molto più calda sul piano emotivo e molto più informe sul piano istituzionale. Questo credo cambierà la percezione perché ancora oggi non si riesce a dare un nome a questo tipo di realtà, un po' la si confonde con comunità minoritarie, ma credo che in futuro questo sarà una delle cose importanti che segneranno la composizione della famiglia cristiana in questo paese.